Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aronegianina. Oggi abbiamo una sorpresa speciale per voi. Avete mai pensato che i tartufini si possono fare con due impensabili ingredienti? Ebbene sì! Nel video di oggi vedremo insieme come preparare queste delizie cioccolatose. Iniziamo la nostra ricetta mettendo a scaldare 260 ml di latte condensato fatti in casa. Chi non avesse visto il nostro video può cliccare sul link in alto a destra. Mescoliamo di continuo finché non diventerà bello caldo. A questo punto possiamo trasferire il nostro latte condensato in una ciotola. Adesso possiamo aggiungere il secondo ingrediente della nostra ricetta che saranno 100 g di cacao amaro di qualità che andiamo ad aggiungere poco alla volta. Il gusto finale del dolce si basa sulla bontà di quest'ultimo, quindi deve essere proprio buono. Continuiamo ad aggiungere poco alla volta il cacao. Ma a mano che continuiamo ad aggiungerlo, il nostro composto si addenserà. Quindi non preoccupatevi perché è una cosa normale. Ecco qua la consistenza finale del nostro composto. Trasferiamo il nostro composto in un contenitore di 15 cm x 11 cm coperto con della pellicola alimentare trasparente. Sporchiamo una spatolina con del burro e livelliamo in tutto per bene. Copriamo con della pellicola alimentare trasparente e poi lo lasciamo a riposare nel frigo per 3 ore, in modo che si assesti per bene. Prendiamo un tagliere e lo andiamo a spolverizzare con abbondante cacao. Passate le 3 ore, tiriamo fuori dal frigo il nostro composto e lo togliamo dalla pellicola alimentare trasparente. Trasferiamo il nostro composto sul tagliere precedentemente spolverizzato con del cacao e andiamo a togliere tutta la pellicola alimentare trasparente. Andiamo a spolverizzare di cacao anche la superficie del nostro composto. Sporchiamo la lama di un coltello con del cacao, poi andiamo a tagliare delle strisce di 2,5 cm. Ovviamente tiriamo via i bolvi. Facciamo la stessa cosa anche nell'altro verso e andiamo a formare i nostri quadretti da 2,5 cm. Ora possiamo formare i nostri deliziosi tartufini, quindi li passiamo da tutti e quattro i lati nel cacao e gli diamo una forma il più regolare possibile, aiutandoci con le nostre mani. E continuiamo così finché non finiamo tutti i nostri tartufini. Infine diamo una bella spolverata di cacao amaro sopra. Ma guardate come sono venuti bene i nostri tartufini ragazzi! Ammirate che golosità! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste meraviglie di dolcetti! Ragazzi sono veramente buonissimi, cioccolatosi! Non direste mai che sono fatti con due ingredienti. Non sono dolci perché c'è un contrasto perfetto tra il dolce del latte condensato e l'amaro del cacao. Sono veramente una meraviglia e noi vi assicuriamo che i serviti freddi dopo il caffè sono fantastici! Insomma ragazzi, sono veramente pazzeschi assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche!